Ciao ragazzi, io sono Androx e oggi come potete vedere siamo qui su Minecraft My Mods Pack Episodio, non mi ricordo, come potete vedere siamo su un nuovo mondo Non perché voglio iniziare una nuova serie, ma semplicemente perché oggi ho annato il pacchetto alla 1.11 Come potete vedere infatti siamo nella 1.11, abbiamo la shader pack e abbiamo ragazzi questa bellissima cosa che si chiama chest Intanto visto che alla 1.11 possiamo fare questa cosa qui che potevamo fare anche nella 1.10 Però sulla 1.11 è più figo Allora ci sono 127 mod, sono riuscito a metterne un pochino di mod Vediamo un pochettino se funziona la vine miner anche se uso un piccone Non mi funziona la vine miner anche se uso un piccone Vediamo un pochettino se io scendessi in qua, se io prendessi della stone Ho preso la stone, quindi vediamo un pochettino se facessi una crafting tablet C'ho delle mod... no ovviamente, posso farci qualcosa con la crafting table Posso farci la crafting browser, il crafting tier 1 e lo storage control module Che non so cosa sia, sinceramente, anche se io l'ho messo in queste mod Ah, questo qui è bello perché tipo... Tipo, io posso far così e me le bala e me le mette bene, è bellissimo Non so perché l'abbiamo messo in questa mod, però mi piace troppo, quindi cacca Perché ho preso questo, non lo so Se io faccio tipo... gira Lol Ok, vabbè, è fantastica che sono a the bus, cioè... è bellissimo Fine Tipo, ragazzi, che faccio... non va? Perché con un control? E con cosa? No, aspetta, perché non va la vine miner? Vine miner... ah, grave Che sarebbe... no, io la voglio con questo... è il menu Eccolo qua Ok, sì, la vine miner è fantastica Perché più che altro volevo mettere una... una mod che aggiungeva la... la wall 3x Però... ho detto, ne... è troppo... è troppo mainstream Cioè, nel senso, è troppo blu Comunque, che cos'è questo? An... è termite... mode... mood C'è un'edale termite, che figo Cosa ci posso fare con le termiti? Ci posso fare il termite zapper La bio mesh Ok, va bene Ok, va bene Pecore, pecore, tante pecore, mi piacciono le pecore Uh, questi qua sono belli e buoni Bravi Cosa ci posso fare con questi? Usage Usage Rainbow Ah, ragazzi, non sapevo questa cosa Ma se voi schiacciate tre Guardate Io, tipo, non so, faccio sul legno E schiaccio tre No, sul legno Schiaccio tre Mi dà... come si crafta questa cosa qui È bellissima sta cosa Mi piace troppo Cioè, è fantastica Cioè, non la sapevo sta cosa Sinceramente Uh, porca vacca quanto... Ah, questa qui è la... la morph... la morphing mod Che bellissima Quanto caspita tolgo? Perché tolgo così tanto? Non lo so Vabbè Ah, ma perché è un ascia in effetti Quindi vabbè Allora, andiamo nel... nel villaggino Perché voglio vedere il villaggino, sinceramente? Ditemi se mi... se vi piace questa shader pack Casomai Ora vedrò Ma... Se troveremo dei bug Uh, questo qui è bello Ci fa il minigame Facciamo il minigame Niente ragazzi Spero di aver velocizzato in realtà Mi mancavano 5 secondi Però... ho perso Vabbè Eh, sarà via Comunque andiamo... Allora, quel coso lì ci fa male Quindi andiamo via Allora, vediamo un pochettino se c'è un fabbro C'è un fabbro, raga C'è un fabbro Questo qui è bello Perché... E mi scrivono su... Su Telegram Però vabbè Eh... Smettetela di scrivermi su Telegram Perché non mi va di togliere il volume Per favore Please Allora, vediamo un pochettino qui cosa c'è La drill core Bello Carino Come si fa, scusa Volevo vedere... Eh, vabbè Sì, non è che... Eh... Però... Però questo non è che si faccia così male È così tanto... Bene Cioè, credo che si faccia con il ferro Questo Vabbè Io lo prendo tutto Uh... Bello questo Una spada La spada, raga Fa sempre bene Anche se l'accetta fa... Fa in realtà lo stesso danno No, fa più danno Fa nove Porca vacca Non lo sapevo Sa cosa Allora, vediamo un pochettino Questa qui cos'è? Wheat Non ci importa Questa qui è carrot Possiamo prendere le carrot? No, perché non sono... Cosate? Però possiamo prendere questa No, non è vero No, niente, raga Non sono... Non sono cresciute Vediamo qua sopra se c'è qualcosa Vediamo un pochettino Uh... Tante stringhe ci piacciono Anche se in realtà Non ci servono le stringhe Perché le abbiamo già prese Cioè, abbiamo già preso la lana Quindi... Chissene Allora, io direi che Mi posso fermare qui In questo villaggio E fare la casa proprio qui In questo villaggio Sì, altro perché Allora Io ho sempre fatto... Cioè In realtà Dal... Da quando ho iniziato queste serie Non ho mai... Non ne ho mai neanche Conclusa una Cioè, ma neanche Avvicinata la conclusione Neanche... Neanche iniziato Probabilmente Quindi io direi che Potremmo fermarci qui intanto Perché è bellissimo Tiny Troj Eh... Tipo Questa mi piace Perché fa il coffee Cioè, tipo Io metto qui No, dov'è il coffee? Canola Coffee beans Io metto questo Lui mi devi far qui E qui ci dovrei mettere la... Eh... Non lo so Andiamo sulla Actual edition Cerchiamo... Non lo so Mi piace questa cosa Perché è la Forever Enough Item Però è un po' troppo scomoda Cioè, secondo me Potevano farla un po' più... Un po' Un po' ben fatta Un po' più ben fatta Ecco Non è che sia così male Però non è neanche tanto curata Quindi, secondo me Ci poteva stare un po' Più di impegno Passatemi il termine Comunque Non la trovo Ma se io tipo Scrivo Cap Mi trova la cap Eh... no Non volevo Givarmelo Come si toglie la... Allora Andiamo sulla Recype mode Recype mode Ok Eh... ragazzi Scusate Non so cosa sia successo Ma vabbè Andiamo su Cap Si faccia qua Ok Allora Stone E coffee bean Eh vabbè Non mi va ora Sinceramente di farla Quindi Direi di Accamparci qui sopra Ciao tizio Come stai? Bene Bello Energy laser Che cos'è? Cioè Gli passa l'energia Questo è un Color generator Cioè Quindi gli passa L'energia Vai via tu Vuoi vedere? No E là Che fa Void crystal Questo qui è E coal Se non sbaglio Però non credo Che possa Prenderlo con questo E È bellissimo Perché abbiamo Già un generatore Qui non Cos'è questo? Wood casing Bello Eh ragà Cosa Cosa qui Cioè Cosa qui in realtà Credo che sia Il coal Mi sembra che Il void crystal Or sia il coal Ora Non vorrei dire una Castelleria ovviamente Però Vabbè Allora Mettiamo la crafting qua Facciamo un letto Facciamoci un bellissimo letto Tac Eh no Ho fatto degli slab Andre Sei veramente Un genio Dov'è la lana? Grazie Eh Fammi il letto Grazie Cos'è? White wool bit The random decorative things Vediamo No Eh Non so cosa Cosa ci posso fare? Scusami Cosa ci posso fare? La white wool Vabbè Ritrasformiamola in In lana Forse è meglio Sì Allora Appoggiamo un letto Tipo qua Non è ancora notte? Se lo toglierei Perché non so cosa serve Cioè In realtà Non mi funziona Credo Mettiamoci Un bellissimo Waypoint New Casa Rubatola Ok Save Off Benissimo Allora Vediamo un attimino Qui fuori se No Ho detto togli Cos'è questo? Light level Vabbè Allora Vediamo un pochettino Qui A parte che qui Questo qui è Sottoterra Praticamente Però vabbè Allora Io volevo vedere Se ci fosse Qualcosa Però Questo qui Evidentemente Non posso prenderlo Cioè io posso Mettere questo Ma se io tolgo La torcia No Ah infatti Me ne toglie Ah Cioè quindi Se ho il seme Me lo Ripianta lui Ah Io pensavo Che non me lo Prendessi Il seme Cioè nel senso Lo mettessi a caso No invece Devo ripiantarlo Vabbè Destro E destro Allora Questo qui Abbiamo un po' di cose Allora Intanto Vediamo un attimino Qui È carino Cioè praticamente Si sono fatti La strada Da qui Che porta Qui Fantastica Bellissima Bravissimi Ragazzi Io direi che Potremmo concludere L'episodio Sostanzialmente Quando andrò a dormire Quindi andiamo a dormire E raga E' notte Ok E raga Io vi ringrazio per la visione Vi ricordo di lasciare un mi piace E condividere Se vi è piaciuto il video Ovviamente Iscrivetevi al mio canale Hendrix chiude Ciao a tutti And I gotta stay high All the time And I gotta stay high All the time And I gotta stay high All the time To keep you up my mind My, 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 my Woo-woo-woo-woo-woo